Allestimento della città di Natale ad Arezzo, quasi tutto pronto, qual è la situazione degli alberghi? Direi veramente ottima al momento, stiamo riscontrando una molle di prenotazioni non indifferente, veramente tante tante richieste, tutti i weekend da qui sino a Natale ed oltre, anche sino a Befana, sono veramente molto molto impegnati per tutti, tutto Arezzo per quanto ne so io è full e anche buona parte della provincia. Sono cominciati i lavori per la costruzione della città di Natale, ci troviamo in piazza Risorgimento e così anche in piazza San Jacopo e soprattutto in piazza Grande dove si sta allestendo il mercatino tirolese, tutta la città è un cantiere per ospitare i numerosi turisti che stanno prenotando gli ultimi posti negli alberghi e nelle strutture ricettive che ormai sono quasi tutte sold out. Le strutture in cittadine stanno registrando assolutamente il sold out per quanto riguarda tutti i fini di settimana, dalla fine di novembre fino a Natale e forse anche oltre. Per quanto riguarda il Natale sicuramente è un mercato squisitamente italiano, soprattutto che arriva per quanto riguarda i mercatini tirolesi, soprattutto da Roma verso il sud, anche perché probabilmente da Bologna in su vanno direttamente in Tirolo, è più facile. Soprattutto dopo un periodo come questo, estremamente cupo, estremamente triste, speriamo che anche per il commercio possa essere la svolta e un segnale di ripresa che ci meritiamo. Speriamo che questo sia un posizionamento di mercato e che non sia soltanto un rimbalzo tecnico, come dicono in borsa, che sia semplicemente il fatto che finalmente, almeno il mercato italiano e il mercato europeo, ha scoperto Arezzo come destinazione. Veramente non riusciamo assolutamente ad accontentare tutte le richieste che ci sono. Queste grazie all'impegno profuso dal Comune con la Fondazione Intur che ha curato tutta la città del Natale e non certamente da meno con l'associazione commercianti, con il mercatino tirolese che ha il suo fulcro in Piazza Grande, ovviamente è un bellissimo polio di attrazione per Arezzo e per tutti i turisti che vorranno venire a trovarci in questo periodo. Arezzo si sta veramente posizionando come punto di riferimento nel mercato nazionale, senza ombra di dubbio, nel periodo natalizio. Anche il bonus vacanza che è addirittura d'arrivo è stato un incentivo a queste prenotazioni? Sì, sicuramente è stato un ottimo incentivo. Abbiamo tante richieste per poter sfruttare il bonus vacanza che ormai è al suo termine. Tante famiglie ci hanno richiesto la possibilità di poterlo fare. Ovviamente la nostra risposta è sì, sicuramente. Si registrano ancora pochi posti disponibili anche nelle strutture extra alberghiere come affittacamere e bed and breakfast. Siamo andati a visitarne uno in centro ad Arezzo. A Nadia, la proprietaria, abbiamo chiesto se è ancora posto per le festività natalizie. Le prenotazioni vanno benissimo. Io nel mio piccolo ho quasi la struttura piena. Continuano ad arrivarmi richieste perché appunto la città di Natale dopo questo anno e mezzo, due, di lockdown è allettante. La gente ha voglia di uscire. Se vogliamo chiamarlo problema, il mio potrebbe essere quello che è una struttura piccola. Se avessi un albergo l'avrei già riempito, però arrivano costantemente richieste di stanze.